Molto interessante, offre gli strumenti principali di marketing, soprattutto per chi non ha avuto la fortuna di approfondire magari nel corso dei propri studi o con pubblicazioni specializzate, offre gli strumenti principali per poter affrontare nel modo giusto una campagna di comunicazione efficace e moderna per quello che è comunque il mondo odierno, quindi principalmente comunicazione virtuale su internet che è il futuro. Si potrebbero dire tante cose su Luca Toffoloni, io penso che venirlo a conoscere sarebbe forse la cosa migliore. È un personaggio che merita di essere conosciuto e visto a quattro occhi.